Buongiorno a tutti, iniziamo questo meeting su Human Brain Project. L'occasione è data dalla possibilità di organizzare dei meeting nazionali che vengono voluti da Human Brain Project, vengono sollecitati e anche aiutati nella loro organizzazione. Abbiamo l'onore di ospitare il primo di questi meeting in Europa, in Italia, in particolare a Pavia, Pavia si sta distinguendo per il ruolo centrale che sta svolgendo all'interno del progetto europeo e abbiamo avuto questo incarico, questo sollecito, a organizzare il meeting proprio da noi. Sono presenti tra noi tutti i rappresentanti di Human Brain Project Italia e siamo cresciuti di numero, siamo partiti da un piccolo gruppo di quattro unità di ricerca a Pavia, Firenze, Torino e Bologna. Siamo arrivati a 15, quindi in questi quattro anni di progetto siamo quadruplicati di dimensione. Questo è chiaramente un successo a livello nazionale, ci porta ad avere un gruppo molto consolidato che si articola su tutte le branche di Human Brain Project, copriamo tutti i settori, lo vedrete durante il corso della giornata, e ci ha portato anche a costituirci come entità nei confronti delle nostre istituzioni di ricerca, di un modo che abbiamo costituito il gruppo Human Brain Project Italia, di questo vi parlerà Francesco Pavone, adesso non lo vedo ancora, che è stato indicato come rappresentante del nostro gruppo. Durante la riunione di oggi presenteremo le motivazioni, i meccanismi, le strutture interne di Human Brain Project, diremo cosa fa la ricerca di Human Brain Project, cercheremo di spiegarlo in termini comprensibili a tutti, anche coloro che non lavorano nel settore delle neuroscienze, e articoleremo la riunione in questo modo. Una presentazione generale durante la mattinata, una keynote lecture che verrà presentata dal professor Stan Griller del Karolinska Institute di Stoccolma, seguirà un saluto del magnifico rettore dell'università, poi ci sarà una pausa intorno al lunchtime, intorno a pranzo, durante la quale svolgeremo delle riunioni interne, poi riprenderemo alle due del pomeriggio con della presentazione di Human Brain Project Italia e di tutte le attività dei singoli gruppi che operano all'interno della nostra nazione. Concluderemo con una discussione generale. Quindi ringrazio fin da ora tutti per essere intervenuti e apriamo adesso il nostro meeting. Buongiorno a tutti, anche io voglio dare il benvenuto a tutti i presenti, per questo che sarà sicuramente una giornata importante per capire come si sta organizzando e muovendo Human Brain a livello italiano. Io sono Daniela Corda e presenterò meglio dopo, ma adesso ho il piacere e l'onore di presentare il professore Gido D'Angelo che darà la prima presentazione su Structure, Organization and Goals di Human Brain Project, quindi ci parlerà della struttura, dell'organizzazione e delle finalità del progetto. Probabilmente tutti conoscete già il professor D'Angelo perché è qui dell'Università di Pavia, è professore di fisiologia, ma nell'ambito del Human Brain è direttore dell'SP1 e del CDP2 ed è anche work package leader del SP6, quindi è presente lui e con i colleghi di Pavia ovviamente in vari degli aspetti del progetto, quindi do a lui la parola. Grazie Daniela, la prima parte di questa meeting riguarda una presentazione generale di quelli che sono appunto gli scopi, gli obiettivi e le strutture di Human Brain Project, ecco vi devo dire io parlerò in italiano, parleremo tutti in italiano, abbiamo deciso così, anche se abbiamo un ospite che è Stan Grilner, I'm sorry Stan, I mean we decided to talk in italian today, but all the slides will be written in English, so you can follow the slides and in case we can translate, ok, thank you. Quindi iniziamo con vedere come è stato lanciato Human Brain Project a livello nazionale. Vi presento un video che ormai è da Cineteca. L'altro progetto vincitore invece si chiama Human Brain Project ed è un progetto straordinariamente ambizioso anche questo, che punta a costruire una simulazione al computer che riproduca l'intero funzionamento del cervello umano. È ambizioso come progetto? Dal livello dei singoli neuroni fino alla capacità di imparare, di ragionare e così via. L'idea è naturalmente avere soprattutto un grande strumento in mano per simulare la comparsa delle malattie del sistema nervoso e quindi i possibili effetti di farmaci per rimediare alla degenerazione e così via. L'idea anche qui è fare un salto di qualità a una scienza, quelle delle neuroscienze che al momento è fatta di moltissime conoscenze parziali su alcuni aspetti del sistema nervoso, e integrarle in una visione unica. Quello che avete sentito ora è una presentazione fatta su Rai 1. Allora io voglio riportare l'attenzione su un fatto, cioè che non è comune che queste iniziative, questi progetti vengano presentati a questo livello. Sostanzialmente la scienza appare a livello dei media quando ci sono grandi scoperte o grandi problemi. Invece in questo caso abbiamo la presentazione dell'avvio di un progetto. Devo dire che la chiarezza con cui è stato presentato è notevole. Quello che succede è che questo progetto cerca di risolvere un problema di grossa portata, cioè to understand the brain, capire come funziona il cervello. Voi direte ma perché? E poi come? E cosa vuol dire capire cosa funziona il cervello? Abbiamo cercato di ricostruire nei dettagli il significato di questa parola che sembra semplice ma nasconde un mondo molto complesso e probabilmente la spiegazione più immediata viene data da Richard Feynman in una sua frase, in una sua sentenza molto precisa. Lui dice, what I cannot create I do not understand. Quindi noi per cercare di capire qualcosa dobbiamo ricostruirlo. Quindi per capire il cervello dobbiamo fare un modello del cervello. E quindi a questo punto i due fattori, capire e modellizzare, diventano inscindibili. In altre parole è imprescindibile fare un modello del cervello se vogliamo capire il cervello. Chiaramente capire il cervello tramite un modello ha delle implicazioni ulteriori. Vuol dire che abbiamo uno strumento formale, quantitativo, che ci consente di fare poi sviluppo su applicazioni di tipo biomedico e di tipo bioingegneristico. A questo punto arriveremo, vi dirò qualcosa. Il problema fondamentale per capire e modellizzare il cervello è il fatto che è organizzato a livello multiscala. Tutti voi avete certamente nota questa organizzazione strutturale che parte dal livello molecolare delle membrane cellulari, risale a livello di microstrutture come quelle delle sinapsi, a livello di neuroni, che sono le unità cellulari funzionali del cervello. E devo dire che partendo dal livello membranale fino al livello neuronale riusciamo a ricostruire il cervello in maniera molto precisa, però ricostruiamo i neuroni. Il problema vero arriva qui, quando si arriva nei cosiddetti local microcircuits, che sono i microcircuiti fatti da tanti neuroni, qui il problema diventa molto importante. E questo è il punto più misterioso, più difficile da capire. Gran parte del lavoro che stiamo svolgendo in The Human Brain Project è quello di capire come funzionano i microcircuiti. Perché capito quello, si può fare l'ultimo salto, che è quello verso i circuiti integrati che formano il cervello. Questo salto non possiamo farlo direttamente dai neuroni, dobbiamo passare dai microcircuiti. Quindi il punto critico è qui. Se noi risolviamo questo, saltiamo fino in cima. Chiaramente quello che poi complica le cose in questo tipo di studio multiscala è che il prodotto del cervello non è un prodotto facilmente misurabile, quantificabile e trattabile, ma è sostanzialmente il comportamento. E' il pensiero. E col comportamento e col pensiero ci scontriamo con un mondo diverso, che è quello dei fenomeni psichici, che decisamente sembra esulare e andare al di là di uno studio meccanicistico della funzione del cervello. In realtà non è così, perché la funzione del cervello è quella di produrre il pensiero e il comportamento. Questo ultimo salto è piuttosto complicato. Quello che succede è che per poter affrontare un problema di questa dimensione occorre un progetto molto strutturato di larga scala. Human Brain Project ha esattamente l'obiettivo di generare la struttura logica, quello che noi chiamiamo framework o infrastruttura, che consenta di operare su un problema di questa dimensione. Però adesso conviene andare in qualche dettaglio ulteriore, perché non capiamo ancora bene come il cervello funziona. Ma innanzitutto opera come un sistema complesso adattativo, questa è una definizione che deriva dalla fisica. E' un sistema complesso in quanto è composto da molte parti che interagiscono ed è adattativo perché cambia. Cambia durante l'ontogenesi, cioè durante lo sviluppo che noi abbiamo da quando nasciamo a quando siamo adulti e a quando invecchiamo. E inoltre cambia nel corso della filogenesi, quindi nel corso della storia delle specie. E in più cambia perché noi apprendiamo e continuiamo ad acquisire informazione dall'ambiente immagazzinandola in qualche forma nel cervello. Quindi in questo modo il cervello non è stabile, continua a cambiare. Quindi questo sistema non solo è complesso ma è anche adattativo e interagisce con l'ambiente. Quindi chiaramente non è un problema semplice. E dentro questa struttura dobbiamo scontrarci con la altissima complessità molecolare del cervello. Decine di migliaia di strutture molecolari interagiscono tra di loro e questo complica la nostra comprensione. Voi potrete immaginare, se voi cercate di capire come funziona il cervello studiando tutte le molecole a una a una, non ci riuscirete mai, perché poi queste interagiscono. E il numero di interazioni è al di là di qualsiasi capacità di comprensione nostra. I microcircuiti che vi ho già nominato come punto critico dello studio sono difficilissimi da misurare direttamente con delle tecniche sperimentali. Banalmente sono fatti da tanti neuroni e non possiamo misurarli tutti insieme e indipendentemente uno dall'altro, il che crea una grossa difficoltà. C'è il problema delle relazioni con la coscienza che vi ho già menzionato. Arrivati a un certo punto ci troviamo di fronte al problema di capire come l'attività neurale genera fenomeni coscienti. Questo è uno dei punti più critici da risolvere. Ci sono problemi nella relazione struttura-funzione-dinamica. Il problema ben noto in ingegneria, questo problema per il cervello non è facile da risolvere. Il problema dello spazio-tempo nel cervello, sostanzialmente lo spazio-tempo esterno nel cervello viene tutto trasformato e non sappiamo esattamente come. Per andare avanti con questi problemi la stocasticità, i fenomeni elementari sono di natura stocastica, ma noi non li trattiamo come stocastici. Ma la stocasticità nel cervello c'è. Quindi qual è l'impatto della stocasticità non è molto chiaro, nemmeno questo. Quello che succede alla fine è che noi non abbiamo una teoria generale che possa essere testata e possa essere contraddetta. Normalmente su un grosso problema di natura fisica si opera facendo test che possono portare a confermare o a invalidare l'ipotesi o la teoria che sta sotto il test. Ma noi non abbiamo né l'ipotesi né la teoria. Forse l'ipotesi, ma la teoria no. Quindi sostanzialmente quello che è il grosso problema è che fino a che noi non abbiamo un modello che genera questa teoria del cervello non possiamo nemmeno fare teste e nemmeno fare prove di invalidazione. E quindi non abbiamo nulla da testare in modo solido. Questo è il grosso problema. Quindi creare un modello serve innanzitutto a produrre una teoria che consente di lavorare, che fino adesso non c'è. Quindi vi rendete conto che il Human Brain Project non è semplicemente mettere insieme quattro laboratori che fanno degli esperimenti interessanti. C'è una filosofia e c'è una organizzazione logica dietro al progetto che è notevole. Che è stata accettata dalla Commissione Europea dopo anni di studio e dopo anni di elaborazione del progetto. E che adesso sta operando, sta avanzando. Vi faremo vedere cosa sta succedendo al di là di queste premesse. Come nasce il Human Brain Project? Nasce nel contesto di uno sviluppo progressivo degli studi sul cervello che partono con il lancio della decade del cervello, della decade della mente. Dopodiché si passa a un primo grosso progetto di larga scala che è il Human Connection Project, seguito da Human Brain Project in Europa, dalla Brain Initiative negli Stati Uniti e poi abbiamo i Brain Project in Corea, in Cina, in Giappone. Sostanzialmente tutte le grosse unità nazionali o sovranazionali hanno lanciato grandi progetti sul cervello. Quindi questa è un'indicazione che non è che siamo solamente noi che abbiamo in Europa l'idea di studiare il cervello. È un importante trend che si sta sviluppando in tutto il mondo. Qual è l'impatto dal punto di vista economico? Questa è un'altra domanda molto importante. Voi direte ma per fare un progetto di questa scala occorrono molti soldi. Sì, occorrono molti soldi. Questi soldi da dove arrivano? Dalla Commissione Europea. Da dove li prende? Li prende dagli Stati membri. Questo poi ve lo racconteranno meglio Daniela e Marta. Quello che succede è che questo progetto ha una taglia da 1,2 miliardi di euro in dieci anni per oltre 100 laboratori. Quindi declinatelo sui laboratori. Non è che sia di dimensioni spaventose per laboratorio per anno. Però è molto grosso. Tenete conto che la spesa dell'Europa per la brain pathology, per la cura e studio delle patologie del sistema nervoso, si aggira intorno ai 500 miliardi di euro, non 1,2. Quindi siamo 500 volte sotto alla spesa per le patologie del sistema nervoso. Il che vuol dire che questo investimento in un certo modo è una briciola rispetto alla spesa generale. Quindi attenzione, cerchiamo di mettere le dimensioni nella giusta scala. È un progetto molto grande rispetto ai progetti usuali, ma affronta un problema molto grande. E la sua dimensione rispetto alla spesa generale che l'Europa affronta per le malattie del sistema nervoso è molto piccola. È un 500esimo. Senza andare in ulteriori dettagli sulla suddivisione per nazioni, ma questa è la dimensione del problema. Quello che la Commissione europea ha pensato di affrontare non è un'aggregazione di ricerche che in qualche modo potrebbero portare a mettere insieme qualcosa. Non è così. Ha generato un piano molto strutturato che si articola su tre grandi challenge, quindi su tre grandi sfide. Understanding the complexity of the human brain. Questa è la prima di cui vi ho già parlato. Dobbiamo capire come funziona. Se non capiamo come funziona è inutile che andiamo avanti. C'è il problema medico e c'è il problema tecnologico o ingegneristico, che sono collegati tra di loro. Perché dal capire il cervello derivano ricadute sugli altri due. Ma gli altri due settori, medico e tecnologico, danno informazioni e strumenti per capire il cervello. Quindi questi sono connessi in un loop chiuso. E questa è una delle sfide organizzative di Human Brain Project. Far parlare questi tre settori che classicamente sono separati. L'ingegnere fa il suo lavoro, il medico fa il suo e lo scienziato ne fa un altro. Non è più così. Tipicamente le neuroscienze sono una materia interattiva in cui entrano molti campi che necessariamente devono lavorare insieme. Al di là dei dettagli riportati in questa figura, dovete tenere presente che questi tre mondi interagiscono all'interno dello Human Brain Project. Quindi vedete che tutto sommato dobbiamo partire dall'idea di avere questa grande sfida per l'umanità, che è capire come funziona il cervello. E questo opera tramite dei modelli. Questi modelli cosa fanno? Cercano di riempire innanzitutto i buchi nella nostra conoscenza. Provate ad immaginare, immaginate di avere un grande puzzle e di questo puzzle avete solamente qualche pezzo sparpagliato. Non lo metterete mai insieme. Ma se voi avete un modello del puzzle, cioè un'idea di che cosa è la figura, i pezzettini li cominciate a mettere al posto giusto. E poi sapete anche quali sono i pezzettini dopo da andare a cercare. Quindi sostanzialmente se non avete il modello del puzzle, il puzzle non lo mettete insieme. Non ci riuscirete mai. Soprattutto se ha tantissimi pezzi. Quindi avere il modello serve a riempire i buchi della nostra comprensione del sistema. Quando abbiamo questo modello cerchiamo i pezzi in modo migliore. Il che vuol dire facciamo meno esperimenti, costano meno, impieghiamo meno personale, impieghiamo meno tempo e otteniamo più risultati. Quindi c'è una questione di economia, di funzionalità scientifica e di rapidità di raggiungimento dei risultati. Che oltretutto previene dalla ricerca di dettagli infinitamente numerosi che non sappiamo più poi dove collocare nel quadro generale. In questo modo c'è anche un tentativo di prevenire la disgregazione delle conoscenze che altrimenti si distribuiscono in tantissimi sottosettori e chiamiamoli rivoli che finiscono da tutte le parti e nessuno riesce più a tenerle insieme. Questo ha portato ad un megaprogetto, inevitabilmente. Quindi nel momento in cui ci si è resi conto che la pista poteva essere questa si è fatto il megaprogetto. Siamo intorno al 2011-2012. Il progetto viene varato nel 2013, dopo due anni di elaborazione. Quello che si vuole ottenere è quello che si chiama nella scienza paradigm shift. Cioè invece di operare in un modo, da questo momento proviamo a operare in un altro o anche in un altro. Fino ad un certo punto le stelle si guardano occhio nudo, da un certo punto in poi si guardano con telescopio. Questo è un paradigm shift. Avere questo modello è come avere un super telescopio che guarda nel cervello tramite un'operazione di ricostruzione matematica. Chiaramente questo implica un impegno particolare da parte di certi gruppi di scienziati che devono essere in grado di maneggiare questi strumenti. Come un astronomo deve imparare a maneggiare il microscopio, noi dobbiamo imparare a maneggiare questo sistema modellistico. Le ricadute chiaramente sono non solamente sulla conoscenza di fenomeni importanti per le neuroscienze, ma anche per la diagnosi e la cura delle patologie del sistema nervoso. Questo è uno dei grandi obiettivi della Commissione europea con questo progetto. E lo sviluppo di nuove tecnologie. In definitiva la Commissione europea vuole sì che noi capiamo, ma vuole un beneficio per la sua società. Quella europea e quella mondiale. Tutto questo in cosa si è tradotto? Nel fatto che Human Brain Project deve generare un'infrastruttura che è paragonata come impianto a quella del CERN. In sostanza verrà generata un sistema integrato di elaborazione di modelli del sistema nervoso che potrà essere utilizzato non solamente da noi interni, ma da tutti quelli che lavorano nel settore. In sostanza verrà creata delle piattaforme informatiche accessibili dall'esterno. E questo è il punto al quale ci stiamo avvicinando. Queste piattaforme sono in fase di costruzione e stanno iniziando a funzionare. Per adesso le testiamo tra di noi. Alcune componenti delle piattaforme sono già aperte all'esterno e l'utilizzo di questi strumenti sta diventando worldwide. Per esempio modelli prodotti qui a Pavia li stiamo utilizzando in collaborazione con gruppi della Università del Texas, per esempio di UCL a Londra e delle Condor Mall Superiore a Parigi. Quindi gli stessi modelli che abbiamo fatto qui adesso sono in diffusi e sono in utilizzo congiunto da vari gruppi che non sono dentro a Human Brain Project. Questo è l'obiettivo che si sta cercando di raggiungere. Human Brain Project è costituito da circa 120 unità al momento. Vedete che è suddiviso in settori. Pavia è questa, è una delle 120 unità. Questi settori hanno dei nomi, ve li faccio vedere in questa figura e in quella successiva. Vedete che sono presenti settori di tipo biologico, per esempio Molecular and Cedular Neuroscience. Questa è tipicamente biologia, neuroscienza in biologia. Poi ci sono settori di tipo biomedico, vedete la Medical Informatics. Settori di tipo neurocognitivo, The Cognitive Neuroscience. E poi c'è una notevole quantità di settori di tipo tecnologico, che vedete comprendono la Neuro Informatics, la Brain Simulation, che è quella che fa i modelli. Neuro Computing, Neuromorphic Computing, che genera nuove tecnologie hardware, basate sui modelli che facciamo del sistema nervoso. Neuro Robotics, che fa robot, che utilizzano ancora questi circuiti che noi facciamo. Poi c'è un sistema, poi c'è Teoretical Neuroscience, per generare le teorie fondamentali di funzionamento dei circuiti e di tutto il cervello. Ed infine, molto importante, abbiamo la High Performance Computing, che consente di ottenere le risorse di supercalcolo che servono a far funzionare e a simulare questi modelli. Quindi sostanzialmente c'è un sistema integrato, lo chiamiamo un ecosistema di piattaforme, che consentono di far funzionare il progetto. Nei primi anni, a partire dal 2013 fino ad aprile di quest'anno, cioè tra qualche settimana, l'obiettivo è stato quello di riscaldare il sistema, di fare la ramp up del sistema e poi di installare le piattaforme. Sono tutte installate, sono tutte funzionanti. Adesso vanno migliorate, riempite, utilizzate, espanse. E a questo punto si può anche aumentare la quantità di ricerca scientifica che si fa sulle piattaforme. Siamo passati da una fase molto di implementazione, molto di sviluppo, di infrastruttura, che adesso dovrebbe portare allo sviluppo invece della parte scientifica. Qui vedete i sottoprogetti. Per esempio, il sottoprogetto 1 è quello di biologia, diciamo, del sistema nervoso. Il sottoprogetto 6 è quello dei modelli del sistema nervoso. Qui vedete tutti gli altri sottoprogetti, la Medical Informatics è il numero 8, la Neuro Robotics è il numero 10, il numero 9, il Neuromorphic Computing e così via. Questi sono divisi per sezioni strutturali. Poi ci sono invece questi assi orizzontali, che sono i cosiddetti CDP. I CDP sono progetti di ricerca, che utilizzano gli strumenti prodotti dagli SP, cioè gli elementi verticali, per fare ricerca. Quindi le colonne verticali producono i pezzi, per così dire, le colonne orizzontali li usano più o meno. Quindi c'è un po' di sovrapposizione tra i due, che alcune volte crea dei problemi, ma in realtà questa è l'organizzazione generale dell'HPP. Per poter sviluppare questi progetti noi abbiamo bisogno di dati critici e di modelli multiscala. Quali sono i fallout, quali sono le conseguenze? I fallout sono innanzitutto organizzare in modo sistematico le conoscenze sul cervello, di questo si interessa la Neuro Informatic Platform, che genera databasing di modelli e databasing di immagini e di informazioni fondamentali, generando degli atlas. Sapete che sta diventando molto importante l'atlasing, l'operazione di organizzazione delle immagini e delle informazioni. E nel caso del cervello c'è il cosiddetto Allen Brain Atlas, che è molto famoso, degli Stati Uniti, derivato dal Human Connection Project, che adesso è in collaborazione con noi. Quindi noi stiamo lavorando su questo altro progetto precedente, implementandolo con delle nuove componenti. Poi abbiamo le Brain Simulation, i Brain Simulators, poi le applicazioni biomediche, le applicazioni robotiche, di neuroinformatica e di computing neuromorfo. Il computing neuromorfo è molto interessante, molto avveniristico, la Commissione Europea crede molto. Sapete che lo sviluppo del sistema di calcolo, al momento è basato sullo schema della macchina di Turing, che è quella che fa funzionare il computer che sto usando qui e tutti i computer che abbiamo in giro nel mondo. Ci sono due nuovi schemi di calcolo, che sono quelli del quantum computing e quello del neuromorphic computing. Ecco, noi stiamo sviluppando sul settore del neuromorphic computing. Quantum computing, poi ve ne parlerà forse Marta, perché c'è una nuova flagship in partenza appunto su quantum computing. Quindi tutti questi settori si integrano tra di loro in un grosso sistema di ricerca europeo e mondiale. Vi faccio vedere solamente alcune immagini, poi ho finito. Questa è un'idea del multiscale experimental analysis. Noi dobbiamo analizzare il sistema nervoso multiscala, non possiamo stare su una molecola e spendere di 20 anni senza uscire dalla molecola. Il sistema multiscala vuol dire che dobbiamo essere in grado di riconnettere tra di loro le ricerche a livello cellulare, come quella che sto indicando qua sotto. A livello di microcircuito, questa è una grossa sfida che richiede nuove tecnologie, tra l'altro, che sono in fase di sviluppo. A livello di sistemi integrativi, e qui andiamo inevitabilmente nel settore del brain imaging, sia strutturale che funzionale. E questi settori vanno ricollegati tra di loro. Come ricollegarli è un problema che il human brain sta cercando di risolvere. Non è così semplice. Questo è un esempio di come procede la modellizzazione. Scusate, è lo schema un po' complesso. Si parte dai biological recordings. Vengono generati modelli di neuroni. E questi modelli di neuroni, poi vi darò un'idea di cosa sono, possono venire duplicati, moltiplicati, connessi, formando delle reti. Queste reti possono essere, in caso di necessità, semplificate in qualche misura, e per generare dei cosiddetti brain models. Ne sono già stati fatti, ne abbiamo. Questi brain models vengono introdotti all'interno di sistemi robotici e vengono utilizzati per fare closed loop testing. Quindi testing closed loop delle funzioni del sistema. Quindi abbiamo creato un modello, ma non lo studiamo solo nel computer, lo facciamo interagire con l'ambiente tramite un robot. A questo punto abbiamo una chance di capire come è stato disegnato dall'evoluzione questo sistema. Non è stato disegnato per farsi studiare da noi in una capsula Petri. è stato studiato per interagire con l'ambiente. Quindi questo è l'obiettivo che viene ottenuto inserendo i modelli all'interno dei robot. Al di là delle possibili applicazioni, per noi è un valore conoscitivo altissimo poter utilizzare i robot. Quello che vedete qui sulla destra è un esempio di registrazioni biologiche che hanno portato allo sviluppo di modelli che sono stati semplificati, introdotti nei robot, e quelle di destra sono le scariche dei neuroni dentro nel robot. Questo è un robot con denti e neuroni, praticamente. Quindi questo è quello che stiamo elaborando nel progetto. E questo è stato sviluppato nei primi 4 anni. Su questa non mi fermo, a qualcuno può piacere, ad altri no. Questa è la parte matematica del problema. Il problema matematico della generazione di modelli è un problema di sistemi di equazioni differenziali che possono essere molto estesi. Nella figura che vi faccio vedere dopo, il neurone è risolto con 60.000 equazioni differenziali, quindi sono sistemi di altissima complessità. E quello che ne deriva è che per risolvere questi sistemi occorrono dei supercalcolatori. Cioè non lo facciamo più nel computerino che abbiamo qui se non vogliamo metterci 10 anni. Quindi per avere una simulazione che venga eseguita in tempi ragionevoli occorrono i supercalcolatori. L'unica cosa che vi faccio vedere a questo punto è questa. Ora vi faccio vedere un filmato che rappresenta un neurone simulato. Questo neurone simulato è preso dal nostro laboratorio. È una cellula del porchinie, quindi una cellula del cervelletto e il più grosso neurone del cervello può ricevere fino a 200.000 input sinaptici nel topo e probabilmente sfiora il milione nell'uomo. È una cellula di dimensioni mostruose. Per rappresentare questa cellula dal punto di vista modellistico sono necessari più di 1.500 compartimenti elettrici e circa 60.000 equazioni differenziali. È un modello di dimensioni spaventose. Quello che noi abbiamo fatto è di costruire i sistemi di simulazione, di utilizzarli in modo appropriato sviluppando delle tecnologie che consentono di lavorare su questo livello di complessità in un modo abbastanza agile. Costruire questo neurone gigantesco non è per noi più difficile a questo momento che costruirne uno molto semplice. Quello che è importante avere sono alcune informazioni biologiche fondamentali, cioè dove sono localizzati i famosi canali ionici, di che tipo sono e sostanzialmente qual è la scarica che il neurone genera in diverse condizioni sperimentali. Dopodiché procedure di ottimizzazione, fitting e parametrizzazione consentono di ottenere il modello finale. Vi faccio vedere un'altra figura. Vi faccio vedere un altro esempio. Questo invece è un modello di un microcircuito. Questa volta i neurone non è uno, ma sono 400.000. quindi qui c'è stato uno scale up dimensionale gigantesco di 400.000 volte. Quindi voi direte ma quindi le equazioni differenziali sono diventate 400.000 volte di più? No, sono molte di più perché qui abbiamo anche le sinapsi e le sinapsi sono circa mille volte di più dei neuroni. Quindi abbiamo uno scale up di quasi un milione di volte. Il problema a questo punto richiede assolutamente i supercomputers. Quello che vedete qui sono cellule del cervelletto quelle piccoline sono delle cellule dei granuli quelle grandi sono cellule del Golgi. E queste cellule stanno pulsando perché alcune sono pacemaker e stanno trascinando la rete in un'attività interna autonoma. Poi quello che per noi è importante non è l'immagine ma per noi è importante analizzare la struttura interna dei dati che vuol dire le correlazioni vuol dire le statistiche interne di questa attività. quello che vi può dare un'idea di come funziona il progetto a questo punto il modello viene fatto a Pavia viene lanciato su una macchina che però non sta a Pavia. In questo caso la macchina che l'ha elaborato si trova a Lugano è il CSCS di Lugano è un supercomputer che sta lì. Stiamo utilizzando altri sistemi in altre circostanze utilizziamo macchine che stanno per esempio a Julik in Germania o che stanno al Cineca a Bologna. Il sistema dei supercomputer europei ha generato una sorta di federazione in cui queste super macchine sono non collegate tra di loro ma sono interoperabili cioè noi possiamo partire da una qualsiasi stazione esterna passare da un nodo centrale di elaborazione e da lì essere smistati su queste macchine come macchine finali. quindi la computer lavora a Pavia ma lancia la simulazione sono supercomputere in Germania e Svizzera o in Italia da qualche altra parte quindi sostanzialmente questo è il mondo nel quale ci stiamo muovendo e anche questa è una delle operatività interne di Human Brain Project che stiamo sviluppando e vi potete rendere conto che il mondo dell'ingegneria è fortemente coinvolto in tutto questo quindi c'è una fortissima componente di tipo tecnologico. Vi faccio vedere l'ultimo filmato in questo filmato vedete un circuito neurale che è come quello di prima ma è semplificato è stato ridotto di complessità per poterlo mettere in un robot questa volta in un robot quelli che vedete qua a scorrere sono immagini delle scariche neuronali all'interno del cervello del robot nel momento in cui sta svolgendo un compito di apprendimento sta imparando a sviluppare una particolare coordinazione sensori-motoria allora il compito in questo caso è facile ma l'impianto strutturale del cervello di questo robot è molto simile a quello del cervello di un mammifero quindi invece di avere un cervello artificiale costruito in modo tale da risolvere il problema che noi gli poniamo questa è la strategia naturale di costruzione dei controllers questo cervello è stato costruito in modo assolutamente simile alla biologia diciamo neuromorfo non è ancora sviluppato al punto da poter consentire il controllo di operazioni molto complesse ma il principio è già lì quindi sostanzialmente noi abbiamo trasferito le reti neurali realistiche all'interno di un controller di un robot quindi questa è tutta la filiera di operazioni che si stanno svolgendo partendo da cosa partendo dalle misure che si fanno in laboratorio sui neuroni e sui microcircuiti quindi vedete come si può espandere portare in avanti uno studio che apparentemente resta confinato all'interno di una osservazione biologica tramite questi modelli può andare molto 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 più avanti chiaramente adesso il problema è sviluppare tutto questo ambiente tutto questo sistema di ricerca io mi fermo qui spero di aver dato un'idea di che cosa è e di che cosa sta facendo Human Brain Project almeno fino a questo punto e passo la parola adesso a Daniela Corda che vi spiegherà in modo più preciso come vengono organizzati questi grossi progetti nell'ambito della ricerca europea e poi della ricerca italiana quindi grazie per l'attenzione fino a qua grazie mi sentite? sì dico chi sei Daniela Corda è ricercatore del CNR ed è il rappresentante nazionale del programma FET a livello della Commissione Europea quindi prego grazie Giglio allora di nuovo grazie per l'invito e ovviamente la partecipazione per me a questo evento è importante e interessante perché ho già imparato ho già imparato varie cose preparatevi a un cambio assoluto di argomento non parlerò dei contenuti di Human Brain ma di come si agisce a livello europeo per promuovere le varie iniziative nell'ambito in questo caso del programma FET Future Emerging Technologies io come ha detto Egidio sono il delegato nazionale quindi rappresento l'Italia per le Future Emerging Technologies e quindi partecipo alle riunioni con la Commissione per decidere gli indirizzi delle FET e di questo vi dirò di più fra un attimo quindi quello è il mio punto di osservazione come gli Stati membri sono interessati o promuovono i diversi progetti ma un punto di osservazione ancora più importante secondo me per Human Brain è il Board of Funders il Board of Funders è un comitato costituito dagli Stati membri e dalla Commissione che si occupa di progetti che si occupa di seguire di scegliere seguire e diciamo aiutare fra virgolette le flagship il progetto delle flagship nell'ambito del Board of Funders ci sono dei chair e il chair la chair è condivisa fra la Commissione e gli Stati membri e al momento sono stata eletta io come co-chair quindi io sono il co-cerco della Commissione di questo Board of Funders per spiegare meglio c'è questa figura che con le figurine si capisce sempre meglio immaginate il supporto economico alle flagship che ve l'ha menzionato prima Egidio è di 1.2 miliardi nel caso di Human Brain ma diciamo intorno al miliardo per le varie flagship in dieci anni che dovrebbe essere al quale supporto dovrebbero contribuire Commissione e Stati membri al 50% questo ancora non è diciamo gli Stati membri hanno contribuito forse non so se si arriva al 10 ma l'idea del Board of Funders è appunto di organizzare questo co-funding delle flagship quindi di Human Brain con progetti che vengono definiti i partnering project quindi se guardate la figura diciamo la governance parte dalla Commissione europea e dagli Stati membri il Board of Funders ha rappresentanti di tutti gli Stati membri c'è il core project che quindi nel caso nostro è Human Brain ma può essere Grafene e sarà quindi adesso ci sarà il Board of Funders e si occuperà anche di Quantum Technologies e c'è una serie di interventi a livello nazionale o regionale che quindi con supporto nazionale o regionale contribuisce allo sviluppo della flagship all'interno del Board of Funders quindi si segue molto da vicino l'attività delle flagship i direttori delle flagship vengono a riportare sui loro achievement sui brevetti fatti sui lavori pubblicati insomma sul progresso che le varie flagship riescono ad ottenere allora quello che vi volevo raccontare brevemente poi penso che Marta andrà più nel dettaglio di come si partecipa al programma FET è quello che sta succedendo adesso a livello europeo per quanto riguarda le flagship ma il programma FET più in generale come sapete probabilmente il programma FET Future Emerging Technologies è fatto di tre ambiti le FET Open le FET Proactive e le flagship dal nostro punto di vista di stati membri ma anche dei national contact point come è Marta abbiamo sempre visto questi tre aspetti delle FET come molto integrati e questo è quello che è anche emerso in una in una recente riunione della quale vi dirò fra poco quindi quando si parla di flagship è difficile vederli in un contesto diciamo sia di organizzazione europea che di investimenti senza pensare a come gli altri elementi delle FET contribuiscono alla flagship comunque un importante evento c'è stato come sta scritto qui il 6 novembre 2017 da parte è stato organizzato nell'ambito del semestre estone e si è parlato appunto delle flagship come il mezzo per mirare all'eccellenza e all'innovazione devo dire che io ho partecipato appunto come chair del board of founders è stata una celebrazione delle flagship forse giustamente così e si è detto come siano i programmi più importanti nel produrre innovazione vi ricordo che tutto il programma Horizon 2020 ha come finalità sì l'eccellenza ma l'innovazione l'eccellenza in ricerca che deve portare all'innovazione e quindi quello che hanno fatto le flagship finora è stato di cooptare per esempio nei loro progetti anche il mondo industriale e questo da un punto di vista europeo si vede come un grande passo avanti nel raggiungimento dell'innovazione qua avrete avuto nel frattempo tempo di leggere cosa ha detto il vicepresidente della commissione europea ANSIP e questa riunione si è organizzata anche con delle tavole rotonde che hanno risposto alle domande che vedete scritte in azzurro perché le flagship sono importanti per l'Europa e come si può massimizzare rendere molto utile diciamo a livello europeo l'impatto delle flagship qual è l'impatto delle flagship adesso qua oltre ad innovation innovazione ho detto un'altra parola cruciale in Europa impatto allora un programma per essere di successo deve avere un impatto ma cos'è l'impatto non è solo il risultato scientifico che casomai soddisfano i ricercatori perché siano contenti di quello che abbiamo visto e trovato ma quanto gli europei quindi la società percepisce e guadagna guadagna in senso di miglioramento della vita eccetera dal progetto che si svolge quindi si è discusso che programmi come appunto le flagship che hanno un ambito temporale molto ampio come ha detto Egidio dieci anni ci si aspetta che si venga ad ottenere un impatto molto maggiore che con i programmi che comunque riguardano le malattie neurologiche piuttosto che altri aspetti della ricerca e che hanno uno span più breve un'altra parola che è diventata cruciale negli ultimi mesi a livello europeo è la parola mission missione ed infatti se ne è parlato anche in questo evento che vi ho detto di novembre missione la definirei questa è la mia lettura lo permetto la mia lettura è che missione è diventata una specie di parola chiave per la costruzione dell'FP9 ok voi che siete qui state ancora pensando che abbiamo tanto tempo di Horizon 2020 dobbiamo ancora prendere tanti finanziamenti speriamo come italiani da Horizon 2020 abbiamo tre anni di progetti davanti a noi a Bruxelles Horizon 2020 è praticamente finito si sta parlando per Horizon 2020 è stato fatto tutto stiamo discutendo l'FP9 e nei prossimi mesi praticamente si concluderà quantomeno la costruzione dell'FP9 poi per tre anni saremo lì a livello di commissione di delegazioni diciamo ad aggiustare i dettagli però l'FP9 verrà definito nei prossimi mesi e una parola cruciale di questa costruzione viene da questo report scritto dalla professoressa Mariana Mazzucato che centra tutto sulle missioni quindi l'FP9 dovrà basarsi sulle missioni dicevo dal mio punto di vista soprattutto a questa riunione di novembre non vedevo una grande differenza fra mission e flagship perché alla fin fine voglio dire le flagship hanno una mission molto chiara quindi se parliamo di mission in senso di ricerca più mission di human brain o di grafene non so cosa dire invece in questo senso della Mazzucato lei dà a mission la lettura di un processo europeo che deve avere una rilevanza sociale quindi non più l'importanza del breakthrough che ci deve essere cioè la ricerca di frontiera e così ma un'immediata rigaduta sociale che insomma è da discutere se le due cose vanno veramente insieme quindi una delle cose che si sta affrontando è le flagship sono mission o le mission diventeranno flagship o stiamo parlando di due canali paralleli che andranno avanti avremo gli uni e gli altri qualcuno mi potrebbe chiedere ma qual è la differenza la differenza è sempre la famosa coperta i fondi dedicati a FP9 saranno X ancora non lo sappiamo dirò qualcosa su questo brevemente però è chiaro che più programmi se allarghiamo dei programmi di grande respiro qualcuno ne andrà a soffrire perché non è che si moltiplichi i programmi e moltiplichi gli investimenti quindi è un problema che a livello di commissione è molto sentito un'altra parola chiave non parola chiave ma iniziativa che ormai già esiste e che influenzerà la FP9 e i fondi come ho appena detto è l'European Innovation Council questo European Innovation Council del quale sappiamo ancora relativamente poco diciamo a quanto pare potrà assorbire parte dell'effetto va bene va male non lo so questa è una discussione che ha preso un giorno un altro giorno a Bruxelles quindi cercherò di riassumerla in un minuto ma insomma sono pronta a discuterne più tardi con chi è interessato comunque l'Innovation l'European Innovation Council al quale si sta lavorando dovrà praticamente in una maniera parallela operare come l'IRC quindi l'IRC guarda l'eccellenza scientifica l'European Innovation Council quindi IIC dovrebbe focalizzarsi sull'innovazione quindi prendere quei progetti assolutamente breakthrough assolutamente innovativi assolutamente come diremmo noi ricerca visionaria per portarli immediatamente sul mercato io questo fatto che dal progetto visionario l'anno dopo si sta sul mercato vedo qualche difficoltà ma questa è una mia ovviamente opinione e arriviamo al al meeting di pochi giorni fa del 7 marzo che è stato molto importante perché anzi dovrei dire organizzato da Apre ma soprattutto da Marta che è stata bravissima nell'organizzarlo è stato un evento che ha avuto veramente un eco eccezionale c'erano 150 posti e 50 persone che non hanno potuto partecipare perché appunto i posti non c'erano più quindi un grande successo di Marta che le va riconosciuto e quindi dell'Apre insomma promosso dalla parlamentare Toia italiana anche lei che voleva capire praticamente per riportarlo poi in Parlamento quanto fossero importanti le FET allora voi potreste dire ma cosa ci interessa le FET noi siamo qui per Human Brain Human Brain è una flagship le flagship sono una parte integrale delle FET e come dicevo prima i tre aspetti delle FET difficilmente possono operare diversamente perché si va dall'effetto open che è assolutamente un bottom up un approccio proprio che parte dal ricercatore quindi qualsiasi idea in qualsiasi campo può essere finanziata e sono progetti relativamente piccoli ci sono le Proactive che sono progetti un po' più grandi possono essere anche piccoli però su argomenti che la comunità scientifica ha selezionato con delle con le consultation che si fanno di tanti in tanti e che io invito sempre tutti a partecipare perché in base alle consultation poi ci sono c'è la selezione degli argomenti e quindi si arriva alle flagship questi progetti enormi come ve li ha descritti Egidio che dovrebbero un po' raccogliere secondo me tutto quello che con vari approcci è stato fatto in quel determinato settore in un progetto che diventa europeo nel senso col contributo degli stati membri e quindi con una forza non indifferente separare questi elementi come adesso in un certo senso si sta cercando di fare per l'FP9 è un po' un problema allora visto io io e anche Marta forse lo dirà anche lei siamo convinti come tutti i 150 che erano presenti a questo meeting che le FET vanno mantenute come tali infatti anche Khalil Ruana il direttore generale della DigiConnect ha proprio fatto il punto di come sono stati di come sono state di successo le FET negli ultimi anni di successo come progetti poco finanziate il problema delle FET è che sono poco finanziate quindi io in quell'occasione spero che finisca nel report ho detto c'è solo una cosa da fare per le FET raddoppiare triplicare i fondi in maniera che il ridicolo success rate del 2% per l'effetto open passi almeno al 6 all'8% basta aumentare i fondi aumenta e se noi perdiamo tutti quei progetti che invece non vengono finanziati ovviamente perdiamo tante di queste idee disruptive innovative e so on e so forth tutto quello che ci si aspetta ci si aspetta dall'EFET quindi volevo fare un invito ci sono delle consultazioni ci saranno delle consultazioni sull'EFET mettetevi la mano sulla coscienza e vedete cosa pensate dell'EFET ma rispondete alle consultazioni perché sulla base delle consultazioni poi in Europa si guarda le risposte degli stati membri e si decide come andare avanti è un processo quando c'è una consultazione è un processo veramente democratico quindi gli italiani tendono a partecipare poco invece dobbiamo partecipare molto di più e dire quello che pensiamo perché in Europa si viene ascoltati gli europei vengono ascoltati in Europa per queste cose rapidamente vi volevo dire ecco qua tanto per dire quali erano i partecipanti alla tavola rotonda e i punti affrontati sono stati la rilevanza dell'EFET i successi dell'EFET quanto l'EFET siano legate legate alla società c'era anche fra gli speaker Maria Chiara Carrozza che ha fatto proprio il punto di come l'importante legame che si è creato soprattutto nelle flagship fra accademia e industria va mantenuto e va diciamo alimentato dando sempre forza alle idee innovative quindi che se non si finanziano diciamo imprese ad alto rischio idee innovative che vengono per definizione un'Europa definita ad alto rischio difficilmente si può avere innovazione ma che sia l'accademia che l'industria possono e devono partecipare a questo se vogliamo essere come si continua a ripetere in Europa leader leader mondiali in alcuni campi e per esempio in Human Brain Egidio ha fatto la storia ma Human Brain è stato il primo dei progetti dei grandi progetti poi sono venuti tutti gli altri quindi è l'Europa che è partita poi speriamo di arrivare primi oltre ad essere partiti primi l'ultima cosa che vi voglio dire in un secondo è un altro report che forse avete già sentito del quale avete sentito parlare e sul quale appunto si fonderanno alcune delle decisioni per l'FP9 questo è l'AMIS report che dice secondo me delle cose fondamentali analizza l'horizon 2020 che sta andando bene tutto quello che abbiamo trovato eccetera ma dice una cosa che ho appena detto per altri motivi vanno aumentati i fondi perché perché abbiamo tanti buoni progetti che non vengono finanziati e significa perdere idee e perdere ricercatori quindi noi dobbiamo a livello italiano ancora di più avere più ricercatori avere ricercatori meglio finanziati e non perdere le buone idee e lui dice una cosa anche che io ho trovato interessante che in alcuni ambiti non va diciamo disprezzata la ricerca incrementale perché in parallelo alle grandi idee innovative disruptive per usare il termine europeo c'è sempre necessità di avanzamenti che specificino e possano precisare quelle idee con lavoro diciamo veramente chiamiamolo pure rutinario se volete ma che rende quelle idee solide e quindi robuste che rende le idee innovative robuste quindi anche l'incremental science non deve essere disprezzata ovviamente secondo l'Amist Report quindi bisogna finanziare di più la ricerca europea bisogna offrire più mezzi e quindi arrivare alle applicazioni prima possibile ma questo è quello che si continua a dire per i vari anche per il framework per il programma quadro 9 che sarà e quindi puntato su questi aspetti dell'innovazione ci si aspetta per finire che le flagships continuino in FP9 ma vista questa revisione dell'effetto che c'è tutto può succedere insomma siamo in un momento in cui tutto può succedere quindi voi siete interessati a Human Brain non penso che ci siano problemi per Human Brain ma per altre nuove flagship ci potrebbe essere una nuova visione quindi le mission della Mazzucato piuttosto che qualcos'altro quindi io inviterei tutti ad aiutare noi delegati nazionali quando c'è da prendere queste decisioni o ci vuole supporto della comunità scientifica ad essere presenti perché possiamo influire per esempio con l'incontro dell'altro giorno appunto questo organizzato da Marta la toia la parlamentare non solo è stata molto contenta vuole il report perché dice con quello può andare in Parlamento e può fare il punto sull'effetto se non l'avessimo fatto e se non avessimo parlato non avevamo il supporto politico per andare avanti quindi bisogna essere buoni cittadini come si dice in Europa quindi siate buoni cittadini europei grazie allora io ringrazio molto Daniela per la presentazione molto chiara io direi certamente la flagship è una mission se vogliamo ecco riassumere questo concetto un po' complicato e poi è molto importante poter apprezzare come queste grosse iniziative di ricerca si interfacciano da un lato con la necessità di essere divulgate e spiegate dall'altro lato con la necessità di una forte coerenza a livello di politiche nazionali e di internazionali quindi c'è una componente di decisione di alto livello non è solamente il ricercatore che fa la cosa che gli piace ecco sono fortemente integrate a livello molto alto a livello governativo adesso la continuazione di questa presentazione verrà fatta da Marta Calderaro National Contact Point per Horizon 2020 e dell'agenzia Apre quindi l'agenzia per la promozione della ricerca europea Marta Buongiorno a tutti in primo luogo grazie mille per l'invito a questo importante evento dell'U-U-M-Brain Project e sono molto felice di essere qui perché come diceva anche Daniela sto imparando tantissimo quindi sull'U-U-M-Brain Project da un punto di vista anche tecnico quindi assolutamente estremamente importante allora giusto per appunto informarvi un pochino io sono un punto di contatto nazionale il mio ruolo è appunto quello di dare diffusione sul programma Future and Emerging Technologies e non solo ovviamente in questo caso per le FET non vi parlerò di che cosa sono le FET in realtà perché parto dal presupposto che principalmente insomma più o meno si sappia che cosa sono questi progetti di ricerca ma vorrei parlare fin da subito di come prender parte allo Human Brain Project in particolare vorrei utilizzare una parola una parola importantissima per il programma Future and Emerging Technologies che è collaborazione il programma FET finanzia una tipologia di ricerca ad alto rischio e ad alto valore tecnologico di tipo dirompente attraverso una ricerca interdisciplinare e ricerca collaborativa abbiamo visto appunto che lo Human Brain Project è partito da all'incirca un partenariato di 80 partecipanti adesso già siamo a 120 partner all'incirca e assolutamente si parte dal presupposto che ci sia una collaborazione interdisciplinare questa collaborazione viene incoraggiata sotto diversi aspetti e punti di vista la mia presentazione breve di oggi in realtà è rivolta proprio a far capire come si può collaborare prendendo parte allo Human Brain Project non essendo parte dello Human Brain Project e anche come si può collaborare per se vogliamo da un punto di vista educativo e quindi come giovane studente che vuole lavorare in quest'ambito ed effettivamente ha tutta o dottorato appunto ha tutta la dottorando scusate la volontà di partecipare allora vediamo in primo luogo appunto un aspetto importante come vi dicevo il primo asse è come prendere parte all'interno dello Human Brain Project e nello specifico lo Human Brain Project è un progetto se vogliamo aperto sotto alcuni punti di vista ma chiuso realmente chi ha potuto collaborare lo ha fatto attraverso una serie di competitive calls che venivano lanciate fin dal 2015 14 15 e queste espressioni di interesse queste call di espressioni di interesse che al momento abbiamo appunto aperto abbiamo tre call di espressioni di interesse nello specifico nella Medical Informatics Platform due no tutte e tre scusatemi sulla Medical Informatics Platform appunto che sono state aperte la cosa importante di queste espressioni di interesse che hanno sia un aspetto un carattere appunto tecnico scientifico ma possono anche riguardare degli aspetti collaterali allo Human Brain Project faccio un esempio in varie call vi è stata una call nello specifico che ha aperto l'espressione per la Data Protection quindi appunto la protezione dei dati che venivano sviluppati e gestiti dalle diverse piattaforme dello Human Brain Project un'altra espressione di interesse è stata rivolta relativamente al bilanciamento e all'equilibrio dello gender balance quindi l'equilibrio appunto tra i differenti partecipazioni uomo-donna all'interno degli staff di ricerca ma non solo anche da un punto di vista tecnico ovviamente queste espressioni di interesse sono se vogliamo l'unico modo effettivo per prender parte allo Human Brain Project dall'interno quindi risulta assolutamente importante e necessario tenere ben presente quando verranno lanciate le call e come prender parte l'espressione di interesse nello specifico viene valutata da un panel di esperti indipendenti ed esterni allo Human Brain questo panel appunto in un primo luogo andrà a verificare da un punto di vista esterno e indipendente la pertinenza del progetto e poi effettivamente vi sarà la possibilità di avere un incontro direttamente con gli specifici responsabili dei differenti sottoprogetti bisogna considerare un aspetto fondamentale su questo e che effettivamente è possibile che un'espressione di interesse richieda la partecipazione anche di un singolo partner che faccia già parte dello Human Brain Project proprio per permettere se vogliamo un allineamento con il progetto in questione su cui si fa richiesta e questo è il primo modo di collaborare l'unico modo appunto per entrare internamente abbiamo già visto questa immagine dalla presentazione di Daniela e nello specifico come si può collaborare esternamente allo Human Brain Project partivo dal punto del presupposto di una parola chiave la parola chiave è collaborazione allora noi vediamo che questa tipologia di progetti appunto di iniziative ad ampio spettro ad ampio raggio di azione ovviamente hanno la necessità di collaborare anche con tutti quei progetti finanziati a livello nazionale regionale e trasnazionale che lavorano nell'ambito ma non sono direttamente coinvolti con l'effet flagship di conseguenza appunto è stato elaborato questo partnering model che non voglio andare a ripetere quello che già diceva Daniela che però permette la possibilità appunto di collaborare esternamente attraverso la collaborazione scientifica in questo senso tra diversi progetti quindi si parte dal presupposto che scusate se dirò una cosa abbastanza banale ma questo implica che si ha già un progetto finanziato a livello nazionale transnazionale o appunto regionale e nello specifico questa tipologia di progetti abbiamo visto prima il progetto tedesco appunto lo Human Connection Project è appunto uno di questi progetti che è entrato in collaborazione così come anche tutta una serie di progetti che sono stati finanziati nell'ambito di questo primo progetto Fleggera che è appunto un Eranet Co-Fund in termini pratici è un progetto dove realmente le diverse agenzie di finanziamento e in questo caso il MIUR nello specifico hanno inserito appunto degli ulteriori fondi per finanziare dei progetti di interesse transnazionale che avessero una relativa connessione con Human Brain e Graphene Project abbiamo appunto citato che è stata appena avviata una FED Flagship sulle Quantum Technologies nello specifico c'è un altro Eranet per quanto riguarda le Quantum Technologies quindi qui non vedete l'immagine che si chiama Quanterra ma appunto i progetti che sono stati finanziati in Fleghera ha avuto più di una call dove è andata a supportare dei partnering project relativi a Human Brain e Graphene nel 2014 e nel 2016 nello specifico e di conseguenza andrà a supportarne ulteriori questi progetti se vogliamo hanno già partono già da un principio di collaborazione con le stesse FED Flagship ovviamente non sono solo i progetti a carattere transnazionale finanziati all'interno di Fleghera ma come vi dicevo possono anche essere progetti a carattere nazionale come fa un progetto a carattere nazionale o regionale ad avere una reale connessione con le FED Flagship lo fa attraverso questa Coordination and Support Action che si chiama appunto SCOPE che dà la possibilità di poter partecipare sia alle conferenze attraverso un finanziamento che viene destinato dalla stessa Coordination and Support Action SCOPE per partecipare appunto a tutte le iniziative relative alle FED Flagship ma anche e soprattutto direi dando ampia diffusione di quelli che sono i risultati scientifici e tecnologici del progetto nazionale allo human brain e viceversa e di conseguenza permette un'effettiva collaborazione tecnico-scientifica quindi particolarmente interessante questa Coordination and Support Action finanziata a partire dal 2016 e infine come vi dicevo da un punto di vista appunto maggiormente orientato al singolo giovane ricercatore il programma FED nello specifico è un programma che tende ad incoraggiare molto la partecipazione di giovani ricercatori e se vogliamo il consolidamento di un ecosistema di ricerca innovazione che poi realmente dovrebbe essere alla base della leadership competitiva europea del prossimo futuro quindi realmente cerca di supportare il più possibile la formazione del giovane ricercatore e in questo senso lo Human Brain lo fa anch'esso con un programma abbastanza strutturato che è disponibile al link che mi sono segnata education.humanbrainproject.eu quindi particolarmente rilevante dove realmente ah ecco scusate non ricordavo di aver messo il link dove realmente vi sono una serie di attività che sono rivolte proprio al giovane e nello specifico al giovane ricercatore lo Human Brain Project curriculum dove si cerca attraverso l'organizzazione di workshop face to face o di online training di dare appunto un supporto relativo alle specifiche tecniche un supporto curriculare proprio di avanzamento curriculare l'Advanced Human Brain School che sono cinque giorni di deep training nelle attività appunto un pochino più specifiche dei singoli sottoprogetti lo Human Brain Student Conference che appunto è rivolto maggiormente a supportare una collaborazione anche interdisciplinare e quindi presentare da un punto di vista interdisciplinare a tutti quanti i giovani ricercatori le attività dello Human Brain Project e le Young Researcher's Event dove i giovani ricercatori che già partecipano presentano a dei propri pari le loro attività e come partecipare particolarmente rilevante perché vedo una sala abbastanza gremita di giovani ricercatori e quindi vi consiglierei appunto di andare a vedere questo sito in quanto ci sono tantissimi eventi già adesso che sono online e con questo vi ringrazio per ulteriori informazioni sul programma FET e su tutti gli aspetti politici in realtà del programma FET sono qui grazie grazie Marta per la presentazione chiarissima questo era veramente un take home message istruzioni per l'uso qui bisogna studiare questo mondo del finanziamento alla ricerca europea che sta diventando molto complesso molto interessante ricco di risorse ma anche difficile tante volte da capire per esempio l'aggancio alle open calls non è sempre immediato quindi bisogna essere molto pronti studiare il sistema e cercare di capire bene dove agganciarlo dunque devo dire che abbiamo accumulato un certo ritardo quindi la cosa che propongo di fare è di rinviare le domande alla fase finale della giornata quando avremo la sessione per le domande che è stata espansa appunto per accogliere tutte le domande accumulate durante la giornata e passerei direttamente a questo punto alla Keynote Lecture del Professor Greenner so Stan we can move directly on to your talk professor Greenner is coming from the Karolinska Institute in Stockholm is professor of physiology is one of the members of human brain project and in particular he is in the directory of the project in relation to SP1 the project on brain data brain data for mice mostly in SP5 for the neuroinformatic infrastructure and SP6 for brain models so thank you Stan for coming and please the lecture so thank you for asking me to come and take part in this inauguration of the Italian human brain project although not being particularly Italian so I will talk about understanding the brain through simulation and experimentation and as Igidio said initially I think that the brain cannot be understood without modeling and essentially that is due to the fact that the brain is so complex so that you have a number of dynamically interacting processes which is difficult to figure out and I mean it applies to the level of the single cell and synapses because it's dynamically interacting processes it applies to the level of networks and produced by behavior mental states diseases so modeling is a very important technique for understanding the brain in the human human brain project one grand goal is to understand the brain through simulation and to understand the given functional module of the brain based on components at the molecular cellular synaptic and microcircuit levels so rigorously based on the biology rather than having ideas about how it could work and within the human brain project we focus on four different compartments of the brain it's a cortex it's a basal ganglia which provides important role for selection of behavior hippocampus which is important for memory formation spatial navigation and cerebellum that is of importance for the fine tuning the nervous system and the final goal is then to integrate these different modules into progressively more complete representation of the brain as you heard from we are rather far from understanding all aspects of the brain but on the other hand we have had rapid development of our insights over the last couple of decades so what I will try in this presentation is to tell you a little bit the basics of how the brain controls movement and also the evolution of the vertebrate motor system over the length of the vertebrate phylogeny essentially and how much is conserved and how much was developed early in vertebrate evolution and I will then use that information to talk about one particular motor circuit that controlling locomotion with experiments but also simulation and finally I will talk a little bit about the basic anglia simulations in the HPP perspective so the little child as you know it's a sweet little survival machine it can breathe it can be fed and it can cry for help but and then you have during the first year a progressive development of from this stage gradually over this so that the little child can stand and then finally walk and this is not as you often say that the child learns to walk or learns to stand it's very much a maturation process so if you train two identical twins you train one and not the other the trained one will start to walk approximately after a year in the morning and the untrained one in the afternoon so essentially it's very much a maturation process with regard to these basic things which doesn't of course mean that you have many aspects of the environment that would be important for the child so if you look on how the nervous system is designed in all vertebrates you have in the spinal cord you have networks that coordinate the locomotor movements and these networks in the spinal cord are controlled from the brain stem and that's whether you are human or whether you are a fish still the spinal cord that coordinates the nervous system has other preformed networks that the respiratory network that is on throughout life you have the networks coordinating chewing so these macro circuits contain all the necessary information to coordinate these movements you have in the mid brain you have circuits that control the eye movements so different points in the mid brain will initiate an eye movement and orienting movement in a given direction and another one so that's a little bit more complex and you have the different expression of emotions humans have about seven what this little guy likes to express I think is pretty obvious and having all these different motor programs I've listed a few here from protective reflexes over swallowing locomotion chewing expression of emotions eye motor reaching etc you have these different motor programs there then you also need to have structures that determine when a given motor program should be called into action and there the basal ganglia is of particular importance and also cortex both for selection and for value based decisions the basal ganglia is located here it's a series of nuclei that play a fundamental role and of course you have cortex here and not to forget cerebellum here so if you take one specific coordination quite complex actually it's that controlling locomotion as I said earlier you have networks in the spinal cord that can be called into action and then elicits the coordinated locomotor movements and this is controlled from the brainstem you have locomotor command centers and when they are activated you elicit the walking movement in the fish it will start swimming in a bird it will start walking and stimulating a little bit more you will have it will start flapping the wings and exactly the same structure works in mammals and man so this is enough to elicit the locomotor movements and then of course you need to have steering movements to direct the movements you need to maintain balance and having this you have what is required to coordinate goal direct locomotion and then of course you need to have the structure that control that and I will talk a little bit about this a little bit about this and finally a little bit about this so what we have done over the years is to instead of initially when we worked on this level trying to predict things about this guy we in order to facilitate the analysis we went to a more this the level of the fish or even more primitive than that and then to try to predict there and the general design of the nervous system in vertebrates is common with cells synapses and networks so we went as far down as you can imagine within the vertebrate to the most primitive now living vertebrate and that's the lamprey which has diverged from the main vertebrate line quite some time ago as you can see and it has developed all basic features of the vertebrate nervous system although cerebellum is less developed than the others and I will first address the question of phylogeny so you have the lampreys here you have the mammoths here and I'm going to explore to what degree they are similar essentially the common wisdom until this year has been that the cortex of mammals originates from reptiles and that's where it started and I will show to you that it actually started a little bit earlier so I will give the evidence for this and so the forebrain organization what we will ask first now is does it have a motor cortex to cortex control movements do they have basic anglia do they have the dopamine system I will not talk about that but they do have an extremely well developed dopamine system and also have been but now the first part is motor cortex so essentially the little lamprey has a tiny little bit here which corresponds to what becomes cortex in mammals and man it contains neurons that are located here extend the dendrites to the molecular layer it has spines which is a learning device of the brain and which invertebrates do not have and what we did some years ago now was that we decided to stimulate this area which we thought would not produce movement but actually we could produce well controlled eye movements we can produce well controlled orienting movements and swimming movements and also oral movements so this tiny little bit could control movements the same type of movements as in mammals we then looked at the projection pattern and we could see that the neurons in cortex projected to the midbrain where eye movements are controlled that means encephalic tegmentum where locomotor movements are controlled to the large reticulospinal neurons which can project rapid effects on the spinal cord and also active directly to the spinal cord so that's the identical things to what you see next thing of course we have the projection do they do the right thing so we stimulated in pallium and we recorded the neurons here and if we do that we see that we have EPSPs that look monosynaptic they use glutamate as in our own brain because it can be blocked by selective blocker and also it's monosynaptic effects so that's one part if we look on the reticulospinals when we stimulate we can elicit large EPSPs and they are very efficient for the population also as in our own brains so essentially to our great surprise we found that the projections from this little cortical area is at the optic tectum we have the different projection patterns here we have the projections to the basal ganglia with its input layer and with its output layer and we have the projection to the synonymous so it's the identical projection patterns as we have in our brain and also if one looks on the details of the interaction between pallium and cortex different types of neurons they are present as well as some different modulators like dopamine 5HT etc so what about the sensory this is still unpublished work we could show we have shown that we have input from retina from the different parts of retina to different parts of here so we have a visual sensory area with retinotopic information in addition to the motor area and we have just last few months shown that we also have a selective input from the body from different parts so some sensory area so essentially there is something corresponding to what we would call a D1 in mammals and S1 in somatosensory area and there is a motor area and the connecting scheme that we have demonstrated is similar if you look then on what has been assumed to be a non layered cortex we found that we have a layered molecular layer we have two cellular layers one in which we have rather much more GABA interneurons than in the others and if we look on the balance between glutamatergic neurons and GABA urgic neurons it's the same proportion that we do have in mammals so essentially what we have shown is that this little guy here has an organization similar to that and we have extended the origin with some 250 million years or so so it means that this organization has been there from very early invertebrate phylogeny if we take the basic anglia and I will be very brief here we have the basic organization both in mammals and here that the output nuclei of the basic anglia pallidumus substantia negra reticulata has different compartments that projects through different brainstem centers that control locomotion posture saccadic eye movements chewing and so forth and these neurons are tonically active at rest so they keep the different brainstem centers under control and the movement can only be elicited when this inhibition is inhibited and that can happen from the input level of the basic anglia the striatum which receives input then from cortex commands perhaps you could say but also from salamis and then of course you have the dopamine input here that determines the responsiveness of striatum too little dopamine and you will have Parkinson's in practically all vertebrates tested and if you have too much activity here you get hyperkinesias and you initiate the brain initiates movements that are not intended as you have often the side effect of the DOPA treatment most of you know that this is a simplified image here so we have striatum the direct pathway here that can inhibit these and thereby release movements but we also have the intrinsic nuclei that are controlled by a separate set of neurons from striatum and the net effect of that is that you increase the activity here and thereby you can stop the movement immediately now in a long series of papers we detailed this in the lamprey and our anticipation was that we should have a very simplistic simplified organization but the more we looked the more we found that practically all items of this organization is present in the lamprey and mammals at the input level at the different D1 substance P D2 and kephalin the different ion channels expressed the masters which molecule is present the different types of interneurons are cholinergic fast spiking interneurons if the other sometimes exist we do not know at the output level the indirect loop and even the hyper direct loop so it's as if this circuit was designed to control behavior and it was designed very early in evolution so how we view this as I've said before is that we have both this indirect and direct pathway with the D1 and the D2 receptors that can initiate but also break movements we have different modules that control different types of movement sets of movements and whether they are activated or not depends on the input from cortex salams and the responsiveness is dependent on the dopamine now what has happened in evolution is that this organization has been conserved but the lamprey has a rather simple behavioral it can perform rather few behaviors and with development and with progressively more complex patterns of behavior you have added more and more circuits so essentially what we have shown is that not only cortex is there but also the basic angle these are the two main players in the terms of the control of behavior in mammals and the design was then developed very early on at this point when the lamprey diverged from the main vertical line some 560 million years ago and that's good news for neuroscientists in that you have so much already there now I will then move from this level to that level and include a little bit more of simulation so I will talk about how this micro circuit operates so essentially what we established in a long series of papers quite some time ago now was that the rhythmic activity in locomotion you get alternation between left and right side in a segment you have pools of excitatory neurons that interact and can generate the burst activity on each side and then you have inhibitory neurons from one side that inhibits the others so these generate a burst and when these are bursting the other will be inhibited and vice versa so essentially there's an excitatory core of spinal glutamate neurons generating burst activity and inhibitory neurons and the burst mechanism depends on in the synaptic interaction plus the properties at the ion channel levels of these cells so when you have ongoing activity you activate NMDA receptors you get calcium flowing into these cells which during a burst will cause an accumulation of calcium activating potassium channels which will gradually hyper polarize the cells we also have sodium activated potassium channels which contribute during a high level of activity and I will not give you the details of that I have touched that but if you look on the burst activity you can choose to believe what I said and feel that that is explaining things but to test if the dynamic interaction of the ion channels and the cells etc really can account that's when modeling comes in and now quite some time ago we modeled these neurons in great detail so that the modern neurons had the same properties as our national counterparts so they had the same action potential the same currency or the same after potential and if they were activated they responded in the same way we then also simulated the excitation so we had both voltage dependent NMDA receptors that can permit calcium and also the AMPA receptors and we incorporated the different ion channels that we had established but the feedback was of course that the modern neurons should do exactly or almost exactly what their biological counterparts did but we then showed that if we have populations of brainstem neurons that drive the network we could generate burst activity and with the alternating pattern that you find experimentally and moreover we could generate the pattern in the same frequency range that we would see behaviorally from about 0.2 hertz up to 10 hertz or something like this so what that showed was that we had sufficient experimental information to account for the behavior you can never show something with modeling but you can show that it's compatible with the data and the explanation was sufficient this was on a segmental level now the lamprey of course swims with angiatory movements you have about hundred segments along the body if you take the isolated spinal cord it generates the same pattern if it's excited but the lamprey if caught in a corner it can reverse this and swim backwards also if you provide extra excitation or inhibition here and we have simulated that in large scale simulation with the blue gene supercomputer a few years ago with a network of the correct number of model neurons about 10,000 spinal neurons and these are compartmental neurons with all the complexity they are not point neurons with established intersegmental connectivity 86 compartments per neuron which is probably more than you need and rather many synapses and what was equally important was that we introduced the variability in morphology and membrane properties that you see in the different populations because that means that you have a change in input resistance so your some neurons respond to a given synaptic current with a low range and the smaller ones with a higher frequency range and that was so we introduced the variability and that turned out to be very important because if we made an average cell with the same number of cells the network did not it did perform but in a much more narrow range if we introduced the variability observed we have we had a progressive increase of recruitment and the de-recruitment we had a much more stable activity and over a much larger range so in this case it means that the variability that you observe biologically is not a mistake by nature it's a design feature for the operation of this network so we have displayed that with color coded so the cells if you look from above that are hyper polarized are blue red are spiking yellow is depolarized and not yet spiking and if you see from above here you have this face lag along the body and the here you see the tensiles and neurons lighting up now what about backwards if we take exactly the same situation but we provide a little bit of inhibition here of the first few segments ten segments or so we can reverse a pattern so instead of having the activity going from head to tail it's going from tail to head and it means that by just affecting a tiny little bit of the network tinkering with this providing inhibition you can then slow the activity here and that has repercussions along the entire spinal cord if you inhibit it will swim backward if you provide a little bit extra excitation it will swim forward so it's also good news in the sense that if you have a complex network you need not interact with all parts of the network you can interact with a little part of the network and then generate the burst pattern or coordinate control the network if you take the same network and now introduce a basic angle that we talked about a little bit earlier and you introduce the input level you introduce the output level with the tonically active neurons and use the same network you will have here you will see the silent striatum the tonically active pallidum that inhibits and then you activate this sorry we have when you activate this what so the simulation I interfered with the simulation so you have to reload no I think this is fine so anyhow if you trust me if you inhibit the striatum the pallidum you will release the motor behavior and and so I think I will leave it there and then say that so this has so far been simulations in a single cell level it has been on the network level and of course the networks control motion so you need to have a body and that's in a sense multi compartmental so we have simulated the muscles and the viscoelastic properties of muscle and also the properties of water and so essentially the same type of network is here controlling neuromuscular activation and so you have this makes a point that you can elicit swimming movements they are coordinated and they can be steered etc and it's actually rather useful also for the understanding not only to have the network simulation that's one level but also having the mechanical things and we have done a lot with steering control etc and I have not included that but it's and this is a version where we have the lamprey with the basic anglia and also with some learning ability so this lamprey has learned to swim towards blue objects and to avoid red objects and as you will see here it swims and targets the blue object so that's a little bit a play but it also illustrates how the basic anglia circuits with the plasticity that is present can do that now I will go okay I forgot this this is an old robotic simulations that we did with Paludari at Santana now a few years ago which is based on the same sort of principles that we had designed and it swims actually better with music than without I took that in this morning when I realized that we have anyhow now to the mammalian simulation from the HPP perspective and the basic anglia that is done with it so at the stage we have simulated the different types of neurons that are present in stratum and as before with their detailed morphology their detailed expression of ion channels also based on sequencing of the different RNAs present in the different subtypes and the overall membrane properties and what is equally important here is the appropriate density of cells so they are the same density of cells that occur in nature and also of course with the connectivity and so we have then detailed the morphology of the different the D1s correspond to a direct pathway which represent about half and then with their dendritic branches and their axonal efferent branches and the D1s and the D2s that has opposite effects are approximately equal and then we have about 4% of interneurons and the fast spiking interneurons are represented here with their axonal branch is about 1% and we have the cholinergic interneurons if we then look at where do our synapses formed and when we looked on the detailed morphology of the dendrites of the medium spiny we found that no less than 80% of the synapses are formed on the distal dendrite each of the distal aspect distal section of the dendrites and more than 80% of the synapses are located there they are not at the soma dendrites but they are far out on the dendrites and that's an important take home lesson and if we simulate these cells we can with the different ion channels expressed etc we make again the model neurons perform in a similar way as their biological counterparts to depolarizing and hyperpolarizing currents etc and with the density of cells in one cubic millimeter of stratum you have approximately 72000 cells and what is located in each dot is one cell so it is not with the dendrites if you take 50 microns of this and put that here then you have the cell bodies here you have a fast spiking into neuron and the cholinergic neuron and then you have the vast dendritic membrane expressed of this and if you look in greater detail this is just two pairs but then it's where our synapses formed and we have this dense network of dendritic and axonal branches and wherever we have an axonal branch that will be very close to a dendritic branch so we have what is called touch detection then we assume that the synapse is formed there and there is mechanism for pruning etc. And with the connectivity that we have based on the realistic connectivity we have the interaction between the initiating and where the breaking the two neurons and the d2 neurons affect each other with synapses in the periphery and the d2 ones act on this about 18% and the d1s do not talk so much to each other the fast spiking interneurons they talk very efficiently but they're only 1% so essentially if you compare biology and the model they perform rather well read this experiments and this is the distance from the soma so they make synapses rather close to two and a half synapses the connectivity probability for the fast spiking interneurons to the d1s is quite high to the d2s a little bit less and if you take the connectivity between the d1s and the d2s it is much less but it's an important interaction and if you look on the single levels and how they are modulated with dopamine the frequency range and the fact that the dendrites also have very interesting properties in contrast to the soma where you can elicit plateau potentials long lasting depolarizations of the dendrites which then has very large importance for the integration so that's where it stands now and next of course what we have done partially but what we will explore is selected subpopulations of the input from cortex and salamis to selected subpopulations of stratal neurons in order to test the initiation and the interaction and also the input from the globus paludus externa which has and input so this is where we stand on this so one can say that from the network simulations on different levels that we have done which still very detailed on the lamprey this is one step further when we have the correct density of cells the correct or further elaborated control of ion channels expressed morphology expressed and activity expressed which will be critical for understanding also the role of the different ion channels so this is an animation from the from EPFL and the human brain project it didn't like to come this is just I don't have the sound here so I think we will travel through the brain a little bit just to get a feeling for the life within cortex in this case how silent it can be how little activity it can be and finally when something happens how very intense it can be say that it's a crescendo and then it's all gone so that's what I intended to say and this is some of the colleagues that have been very important in this work Andreas Cardamakis and Mark Stevenson Joes Britta Robertson and of course Jeanette Hellgren that many of you know and Peter Valin and the hero in part of this story is this guy okay thank you very much thank you Stan for the very nice presentation I think you have seen an example of biology evolution modeling up to the robots and then explanation on how the system might work I think this is what is the sort of track that we follow in order to resolve functioning in the brain through models I think we have time for some questions because now we're waiting for the vector but he's coming but in the meanwhile we can start with some questions in case and then we stop when the vector comes so if there are any questions for Stan can I just can you repeat especially for the younger the difference of the robot of the sea that was trained to avoid red and hit blue compared to the robots that have got millions of commands millions of rules what I was suggesting is that it took me a while I'm a physicist and I don't work in computational neuroscience but I've seen lots of these videos from different groups of these new robots that have got our brain or the brain functions into it so I was asking Stan to repeat the difference of the fish that was trained to avoid red and hit blue with the models of the brain compared to an equivalent robot that could have rules embedded that already say hit this and avoid that so could you just clarify the difference because I don't think that every people okay so what is special about the fish or the lamprey is that all details of the circuitry is built bottom up so we know every single cell we know that the network operates in this way we know how the basic anglia interferes or rather produces behavior and the plasticity there so it's based in detail on biology most robots are sort of top down with some inspiration from the brain and that's also interesting but it's a different thing one question is related to comparing different species so the complexity of basal ganglia and the structure you showed us related to lamprey are more complex in humans in mammals because the body is more complex or so the size of basal ganglia in these different species is related to the complexity of the body I mean what I meant to say was that all components in the control system that we have in our brain is also present in the lamprey brain the difference is that it's much fewer neurons much fewer modules and which is fine for the lamprey but for for mammals or man we need to have many more modules and what has happened during evolution is that you have added module after module to control progressively more complex behavior but the control structure the circuits seem to have been kept intact so they were invented very early in vertebrate evolution and has been kept presumably because any change has been for the worse so they have been retained in much the same way as several different ion channels had reached their perfection and any mutation will make them operate less efficiently any more questions so thank you very much for the presentation and and to university of pavia in the hall of magna one of the most freddy of the universe but I'm convinced that the Il fervore della riflessione che state svolgendo vi aiuterà a sopportare i rigori di questo inverno pavese. Mi scuso per aver dovuto posporre il mio saluto, però volevo assolutamente avere l'occasione di incontrarvi per dirvi tutto l'impegno dell'Università di Pavia in questo importante progetto e in generale nel sostegno agli studi in questo campo. La neurologia, le neuroscienze sono uno dei campi più promettenti della ricerca oggi. Sappiamo che alcune di queste ricerche sono legate a contingenze demografiche che riguardano il nostro continente in particolare, ma in realtà la promessa radiosa che viene fatta da questa ricerca è molto più ampia, non riguarda solo le patologie neurodegenerative, i disturbi legati a una macchina che si affatica inevitabilmente nel tempo. Ci sono molte promesse che sono fatte e saranno, sono convinto, mantenute nei confronti di gente, di uomini e di donne che soffrono di patologie di questo genere anche in giovane età. Oltre che, e questo lo voglio sottolineare, sempre parlando di questa ricerca, di schiudere ovviamente uno spiraglio su una delle questioni più appassionanti dell'essere umano, cioè come funziona la sua mente. Credo che in questo Human Brain Project non ci sia però solo questo, c'è almeno un'altra cosa che io desidero sottolineare ed è cioè la sua struttura reticolare e la sua capacità di mettere insieme le forze. Guardate, lo dicevo ieri ad un illustre collega che è seduto lì, che è questo, la ricerca ha un aspetto innegabilmente competitivo, questo si riverbera sulle istituzioni che fanno ricerca, che sono naturalmente tra loro in competizione. Però io credo che la realtà sia anche un'altra e se la guardiamo è lì da vedere, è la necessità della collaborazione. La necessità della collaborazione perché quello che conta non è essere i primi, ma aprire per tutti strade nuove. Da questo punto di vista e con questa ottica l'Università di Pavia è impegnata, è impegnato credo tutto il sistema della ricerca scientifica in Pavia, penso anche agli IRCS come il Mondino che è impegnato, a cui appartiene anche il nostro Egidio, che sono spinti avanti non tanto dall'ansia di competere, quanto dall'ansia di portare a compimento quelle promesse di cui dicevo prima. Questo aspetto di collaborazione che è evidentissimo in questi piccoli marchi di fabbrica della ricerca che abbiamo qui è molto importante e quindi desideravo sottolinearlo. Ho parlato in italiano come è stato proposto perché la gran parte dei nostri, mi pare, degli oratori, degli interventori che ringrazio tutti sinceramente sono italiani, e abbiamo però anche un importante ospite che è anglofono, il professor Stel Grilner. Welcome to Impavia e ringrazio molto per il tuo keynote speech. I was not able to listen to it. Unfortunately, I am obliged to miss many of the opportunities that this university offers to me and to any scholar because of administrative obligations, but I am sure that your lecture has been an important contribution to the work of this Congress, of this seminar. Human Brain Project Country Italy Quindi voi portate anche un po' il segno di questa ricerca fatta in Italia, avanzata, importante in tutto il mondo, spesso non ne siamo consapevoli, ma è così. Volevo solo aggiungere che questa università è con voi, è con il vostro impegno di ricerca, vedo molti 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 volti di ragazzi, se mi permettete di dire così, di molti volti giovani, e con voi e con la vostra ricerca associate questo vostro lavoro, questo vostro studio a grandi speranze e il nostro scopo unico è quello di sostenervi. Grazie. Ringrazio molto Fabio per essere venuto perché ha seguito passo passo gli sviluppi del progetto, è stato con noi come testimonial quando è stato qui Henry Markram la prima volta, gli abbiamo conferito un premio, eravamo agli inizi, nella prima fase del progetto. E' stato con noi quando abbiamo ospitato l'SIB, il Science and Implementation Structure Board dell'HPP, poco tempo fa ha conosciuto il direttore scientifico di HPP, Katrin Amunds, oggi ha conosciuto Stan Grillner, quindi ha conosciuto i personaggi più importanti del progetto e ci ha seguito in tutti i modi. È molto importante anche ricordare che l'Università di Pavia ha una struttura logistica, organizzativa e storica incredibile che fornisce queste splendide aule, questi servizi, tra poco saremo nelle aule del rettorato appunto per un piccolo lunch e questo è molto importante perché genera un contesto nel quale la ricerca si può sviluppare anche a livello di comunicazione, che è certamente un aspetto molto rilevante. Quindi a questo punto io chiudo la sessione della mattina e ci sarà durante queste due ore di break, ci sarà appunto la presentazione dei poster, vedrete il robot là in fondo, abbiamo un piccolo robot con i circuiti che avete visto spiegati in breve questa mattina, che funziona, che è là in fondo, ci sarà tempo per parlare, per riposarsi, alle due ricominciamo sempre qui con la seconda parte del programma che prevederà gli interventi di tutti i partecipanti di Human Brain Project Italy, quindi tutti coloro che entrati all'inizio, entrati a metà, entrati alla fine a vario titolo con i Partnering Projects, le Open Call, gli Eranet o come core partners, prendono parte a questa grande iniziativa che si sta sviluppando. E devo dire che Pavia è centrale perché Pavia sta, ci sono diversi poli che si stanno articolando tra di loro, non è l'unico, ma Pavia è importante perché sta coordinando l'attività di ricerca su diversi fronti, per esempio coordinandosi molto bene col Politecnico di Milano, con l'Università di Milano, all'interno Pavia coordina vari gruppi di ricerca che non sono certamente solo il mio, abbiamo gruppi all'ingegneria, abbiamo gruppi a medicina, al Mondino, quindi abbiamo un'attività molto estesa che sta facendo della nostra struttura un punto di riferimento. Quindi io vi ringrazio molto per aver seguito la prima parte del meeting e vi aspetto per il 2 del pomeriggio. Grazie. Grazie. Grazie.